Il treno regionale 12 0 7 6 di Trenitalia delle ore 13 e 59 per Ancona è in partenza dal binario 4. Fermala, Nocera Unda, Gaifana, Gualdo Tadino, Fossato di Vicogudio, Fabriano, Albacina, Genga San Vittore Terne, Serra San Quirico, Castelplanio Gutramontana, Monte Carotto Castelbellino, Iesi, Chiaravalle, Falconara Marittima, Ancona Torrette. Il treno regionale 24 82 di Trenitalia delle ore 13 e 54 proveniente da Roma Termini è in arrivo al binario 2. Il treno regionale 24 di Trenitalia delle ore 13 e 54 di Trenitalia delle ore 13 e 54 di Trenitalia delle ore 13. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti